ariete alleggeriti nelle vostre percezioni da una luna armonica avete modo di rilassarvi e considerare il punto di vista più ottimista delle vostre problematiche dovete attraversare infatti un periodo poco favorito dalle configurazioni a strada che riserva qualche tensione toro giornata sottotono per voi soprattutto nella percezione di una delusione affettiva lontana dalla necessità di amare della vostra natura cercate di passare oltre secondo le indicazioni di un marte positivo che consiglia di agire e lavorare duro per ottenere un risultato gemelli si prospetta un periodo di accrescimento e fortuna contrassegnato da posizioni astrali benefiche che aiutano a scovare occasioni importanti e regalano forza e determinazione per raggiungere le vostre mete saturno opposto pone qualche limite ma servirà da compensazione cancro avvolti in una atmosfera di nervosismo e insofferenza dovete fare i conti con un momento un po stancante nel quale non riuscite a trovare i giusti equilibri nel settore lavorativo o in alcuni ambiti personali il conforto viene da venere positiva che esalta l'amore leone oggi siete polemici e nervosi vittime di impressioni distorte che impediscono di vivere il lato positivo delle questioni per natura ottimisti la sensazione sarà di breve e durata forti di un assetto astrale decisamente favorevole e vantaggioso a parte l'amore che risulta freddo vergine la vostra seconda casa solare popolata da giove sole e mercurio potrebbe vedere un arricchimento delle vostre risorse economiche comunque un movimento inusuale buono il tono vitale e l'energia brillanti le faccende di cuore che riservano a pagamento bilancia la vostra flemma diplomatica viene spiazzata da un movimento astrale che suscita un atteggiamento impulsivo e attratto dalle novità diverse dalla routine con una briciola di aggressività la piena consapevolezza di voi stessi non diventi egocentrismo scorpione prosegue il fortunato periodo in amore con venere in transito nel segno che allieca alla sintonia di coppia e promette occasioni speciali per chi è solo l'inclinazione ai piaceri della vita corona questo momento di benessere che vi allontana dalle questioni spinose sagittario cielo astrale di notevole favore per voi foriero di conferme in ambito professionale e semplificazione delle conflittualità che potreste incontrare completa il quadro una migliore capacità di comunicare le vostre idee e affermarvi con i progetti che state lavorando capricorno una bella carica energetica caratterizza questo periodo cercate però di non farvi trascinare in impegni eccessivamente gravosi per non incorrere in una stanchezza da sovraccarico dovete mettere in conto un percorso un po faticoso le configurazioni astrali adesso tolgono qualche favore acquario ben predisposti ad apprezzare la positività delle cose oggi siete pieni di idee produttivi in armonia con voi stessi anche se venere dissonante procura un allontanamento dall'armonia in campo sentimentale cercate di non essere troppo individualisti e recupererete terreno pesci in un assetto astrale per voi decisamente in rialzo avete buone occasioni da vivere nella sfera sentimentale con un coinvolgimento amoroso intenso buono il tono vitale e la tendenza ad occuparvi dei vostri piaceri piuttosto che dei doveri buone stelle